Mamma, papà, dove siete? Ehi, campione, prendi! Ben fatto, figliolo! Anch'io voglio giocare a palla con mio papà! Oh, sta bene! Anch'io un giorno avrò dei genitori! Papà, devo aiutarla! Ecco, questo è perché... Papà, voliamo! Cici wow! Papà, stai accelerando di nuovo! Che cos'è? Agenzia di adozione per supereroi! Proprio quello che sognavo! Benvenuta! Tesoro, mettiti a tuo agio! Queste sono... Le case dei supereroi! Cici wow! Vera magia! Kim è giunto il momento di scegliere i genitori perfetti! Oh, so chi saranno! Hardy e Pranker! Signorina Skyler, per favore! Ottima scelta, tesoro! Quando vuoi cambiare famiglia, premi semplicemente questo pulsante! E ora, un po' di magia! Wow! Incredibile! E adesso? Vai dai tuoi genitori, ovviamente! Vai, divertiti! Auguratemi buona fortuna! Ehi, c'è qualcuno a casa? Mamma! Papà! Dove siete? Eccoti ragazzina! Ti stavamo aspettando! Benvenuta nella tana dei cattivi! Diventerai nostra figlia? Sì, sì, certo! A proposito, abbiamo una sorpresa per te! Tadà! Mostraci cosa sai fare, Kim! Oh, è così dolce! Ci devono essere molte caramelle! Ce la farai, tesoro! Uno, due... Andiamo! Sto per... Quasi... Oh! Ah, eh... Talento! Supercolpo! Ho vinto! Ah, non credo! Dove sono le caramelle? Tesoro! Le caramelle fanno male ai denti! Sembra una brava ragazza! Che state facendo? Ah, ah, niente di che! Solo un restyling pazzesco! Tesoro, sei una supercriminale! Ah, ah! Attento, Batboy! Ma manca qualcosa! Mettiti al lavoro, tesoro! Un paio di buchi nella maglietta e ovviamente un tatuaggio da cattivi! Wow, ha funzionato! Ah, ah! Ah, benvenuta in famiglia! Questa città è in pericolo! Nessuno si muova! Non siamo stati noi! È stata una sua idea! Cosa? Mani in alto, ragazzina! No, non è colpa mia! Sì, sì! Il pulsante! Hardy Pranker tra noi non funziona! Oh, aiuto! Oh, oh! Atterraggio morbido! Dove sono? Mamma, papà, siete qui? Ehi, Barbie! Ehi, stai bene? Ehi, Ken! Riesci a sentirmi? Ehi! È una sfida difficile! Come faccio a svegliarli? Ah, ah! Ho un'idea! State fermi! Tornerete come nuovi! Buongiorno, mondo! Mamma, tocca a te! Ti sono mancata! Ciao, Barbie! Ciao, Ken! Ciao, Kim! Sono vostra figlia! Piacere di conoscervi! La bellezza è molto importante! È ora di sembrare una bambola! Per prima cosa, liberiamoci di tutte queste cose inutili! Facile, facile! Oh, lo adoro! Ma non abbiamo ancora finito! Tesoro, hai dimenticato qualcosa! Sì, grazie, tesoro! È la magia di Barbie! Guarda e impara, Kim! Liberiamoci di questo trucco orribile! Un po' di schiuma e il gioco è fatto! Ora passiamo alla parte divertente, il trucco! Lucida labbra corallo! E ombretto rosa sulle palpebre! È carino, non è vero! Kim, vai a provarlo subito! Ah, sono di nuovo io! Grazie, mamma! Che ne dici di un nuovo vestito? Cici, wow! È così alla moda! Provalo, tesoro! Sembri così... cartonata! Mamma, papà, siete i migliori! Aggiungiamo degli accessori carini al look! Sono bella! La torta è il pranzo più sano che ci sia! Mamma, sei un genio! Buon appetito, tesoro! Assaggiala! La adorerai! Sei sicura? Allora veniamo al dunque! Aspetta, ma è... Non è un vero pranzo, è finto! E ora... La festa di Barbie! Conquisteremo la pista da ballo! Famiglia, ripetite dopo di me! E domani sarà di nuovo il giorno più bello di sempre! Sembra promettente! Dobbiamo dormire nelle scatole? Finalmente! Buongiorno, famiglia! Ancora colazione di plastica! Giusto, ballare! Che divertimento! Posso avere un letto morbido invece di una scatola? Mamma, papà, buongiorno! Cosa faremo oggi? Una festa? Veramente? Sarà meglio tornare nella scatola? Buongiorno, tesoro! Ah, colazione in famiglia! Cosa potrebbe esserci di meglio? Basta, voglio una vita vera, non di plastica! Tesoro, stai calma! Dobbiamo festeggiare! Sono stufa di tutto questo! Non vedo l'ora di vedere nostra figlia! Ecco, mi arrivo! Ladybug e Chat Noir sono la vostra più grande fan! Chichi Wow! Eccolo! Il leggendario Yo-Yo! Il bastone di Chat Noir! Pow! Pow! Oh! Tesoro, questi non sono giocattoli! Abbiamo qualcosa di meglio! Quale ciondolo vuoi? Bene, bene! Questo! Come funziona? Stai per vederlo con i tuoi occhi! Volerò come una farfalla e pungerò come un ape! Cos'è? Non sembra una superarma! Vogliamo provare? Oh, non va bene! Oh, hai ragione! Oh, papà, stai bene? Penso di sì! Figlia, sei una vera eroina! Cosa sta succedendo? Papillon! Lo prenderò! Seguitemi! Fermati! Sei troppo piccola per salvare il mondo! Ma non è giusto! Aspettaci a casa! Mamma? Papà? Ah, gli eroi hanno salvato di nuovo Wow City! Oh, è il nostro lavoro! Mamma, papà, siete i più coraggiosi! Tesoro, hai visto come ho fatto? Mi siete mancati! Cosa c'è per cena? Oh, tesoro, dobbiamo andare! Ma ho fame! Tesoro, le patatine sono deliziose e salutari! Sei sicura? Mamma, papà, giochiamo! Sarà divertente! Non puoi battermi! Questa non è un'esercitazione! Corriamo presto! Cosa? E io? Mamma, papà! Guardate cosa ha disegnato! È la nostra famiglia! Wow, sei così talentuosa! Ma ora la città è in pericolo! Oh no, non siamo una vera famiglia! Ragazzi, cosa dovrei fare? Dovrei stare con Ladybug e Chat Noir! O trovare altri genitori! Avete ragione! Ora non sarò più una supereroina! Ladybug, Chat Noir, addio! Tesoro, sei arrivata giusta in tempo! Benvenuta sul fondo dell'oceano! Kim, cosa c'è che non va? Oh sì, come ho fatto a dimenticarlo! Prova questi! Oh, ok, andiamo! Ora sarei proprio come la mamma! Ah, perfetto! Tesoro, questo è il tuo regno sottomarino! Ma penso che mi manchi una coda! Mamma, posso averne una anch'io? Oh, c'è la ricetta segreta di Ursula! Prepariamo la pozione! Pietra magica! Ce l'ho! Alghe! Eccole! Venite dalla mamma! Ora dobbiamo solo aggiungere la perla blu! Tesoro, mi aiuti! Ok! E dove la trovo? Ah, stammi lontano! Forse qui... Oh, questo non mi piace! Mamma, non ce la faccio! Rosse, gialle, blu... Oh, di quale perla ho bisogno? Ragazzi, aiutatemi! Ho dimenticato la cosa più importante! Quale perla devo aggiungere alla pozione? Scrivetelo nei commenti! Giusto! La perla blu! Come ho fatto a dimenticarlo! Mamma, l'ho trovata! Figlia, ce l'hai fatta! Ahahahah! La nostra pozione è quasi pronta! Torna subito! Mamma, puoi contare su di me! Eccu! Tesoro! Presto sarai una vera sirena! Deliziosa! E un altro sorso! Ops! Qualcosa non va! What? Cosa c'è di sbagliato in me? Dov'è la coda? Sono brutta! Tesoro, sistemeremo la cosa! Amico, mettiti al lavoro! Grazie! Ci hai davvero aiutato! Mamma, che ne dici di cenare? Ho tanta fame! Vieni a tavola, tesoro! Li adorerai, prometto! Fermi! Non esiste! Qualcosa non va? Ce n'è di più per me! Ma è il miglio! Mamma, tra noi non va! Ciao! Sono Kim! È bello vederti, cara! Fa così freddo! So cosa fare, tesoro! Ho la coperta più calda del regno! Non credo! Che ne dici di uno spuntino? È una bella idea, Kim! La magia del ghiaccio esaudirà qualsiasi desiderio! Il pranzo è già in tavola! Un hamburger? Mamma, è ghiacciato! Mettiamoci al lavoro, allora! Come dici tu? È troppo complicato! Devo tirarti sul morale in qualche modo! Ho un'idea! Mamma, cosa stai facendo? Sì, lo so! Sì, lo so! Una canzone! Ma come ci aiuterà? Cosa c'è lì dentro? Signora, penso che tu abbia un po' freddo! Che posto strano! Lasciami! Assolutamente no! È troppo pericoloso per una bambina! Eccoti, tesoro! Non ce l'ho fatta! Oh, povera ragazza! I supereroi non sono dei buoni genitori! Addio! Oh no, devo aiutarla! Passiamo al piano B! Chi mi aspetta? Sto giusto cercando una figlia, lo sai? Tu ed io... Oh, ci sto! E avrai anche una sorella fantastica! Wow, sembra promettente! Spero che mia sorella non abbia paura delle mie zanne da vampira! Saluta, tesoro! Questa è Kim! Ciao, Kim! Sono Veronica! Ciao, sorella! Assolutamente no! Per favore, riportatela indietro! Perché è così cattiva! Tesoro, non essere scortese! Ma lei è una vampira! Devi smetterla di guardare quei film dell'orrore! Ora, Kim, andiamo a vedere la tua stanza! Avrai più fortuna la prossima volta! Oh no! Ecco la tua camera, Kimmy! Cosa ne pensi, tesoro? Davvero, le date la mia stanza! Ci vediamo a cena! Oh, mi piace qui! Vedrai, Sanguisuga! Ti farò confessare! Cosa stai cercando di fare? Trovato! I vampiri sono mostri molto terrificanti! Oh! Cosa sta succedendo? Cercavi questo? Dammelo! Bene, bene, vediamo! I vampiri sono mostri, eh? I vampiri sono le creature più carine del mondo! Oh, è successo qualcosa di terribile! Smetti la ridammi il mio tablet! Bene, tieni, frignona! Oh oh! Ecco qua, sorella! Stai cercando di fregarmi? Kim! Oh, stai bene! Credo che Veronica sia impazzita! Non è vero! Aspetta, quello è... Il mio tablet! È stata Kim! Non ho fatto niente! È stata lei! Beh, la situazione si sta facendo confusa! Ehi, voi sapete chi ha rovinato il mio tablet? Perché non ce lo dite nei commenti? Allora sei stata tu! Non farei mai una cosa del genere, papà! Oh, lo so, tesoro, lo so! Ci sei tu dietro tutto questo! No! E il caso è chiuso! Ti dichiaro colpevole! Impunizione! Sono in punizione! Ma non è giusto! Così impari a scherzare con i vampiri, sorella! Oh, ti pentirei di avermi trattata così! So che i nostri genitori amano di più me! La cena di oggi è posta, tesoro! Sembra proprio appetitosa! Allora mangia! Non preoccuparti per me, sorella! Guarda! Oh, è argento! Allora avevo ragione, dopo tutto! Mamma, devi vedere! Cosa c'è che non va, tesoro? Non mi sento molto bene, scusate! Doveresti traiarti un po', cara mia! Papà si prenderà cura di quella posta! Oh, quella povera bambina! Oh, non puoi ingannarmi, Kimmy! Dovrei andare ad aiutare la mia sorellina! Oh, la pasta non è mai troppa! Sei qui, sorella? E fa così male! Ma supererà questa cosa! Oh, chi c'è? Devo essermelo immaginato! Bene, cominciamo! Ecco la mia chiave segreta! Oh sì! Vieni qui, tesoro mio! Un po' di sangue è proprio ciò di cui ho bisogno in questo momento! Mamma, papà! Dovete vederlo! Oh, cosa c'è questa volta? Dove stai andando, tesoro? Beh, altri spaghetti per me! Ehi, aspettami! Non crederei ai tuoi occhi, mamma! Ma aspetta, lei stava... Stavo leggendo! Tesoro, penso che la nostra Veronica non stia molto bene! Nasconde del sangue umano qui! Ora la cosa sta diventando interessante! Il sangue è proprio lì! Possiamo dare un'occhiata, tesoro? Certo, mamma! Io tengo qui i miei tesori segreti! Non è così carino! Te l'avevo detto! Quindi mi è ingannata di nuovo, eh, Kim? Piccola disgustosa! Mamma, non vedi che è una vampira! Veronica, non posso credere che tu abbia rovinato il disegno di famiglia! Perché lo hai fatto? Aspetta un momento, mia cara! Come può odiarmi, mia sorella? Migliorerò tutto, Kimmy! Ti faccio un piccolo regalo! Wow, è per me! Un tablet! È ciò che ho sempre desiderato! Oh, non è giusto! I mortali dormono profondamente! Ciò significa che è ora che i vampiri agiscano! Sogni d'oro, sorella! Oh, che c'è? Che cos'ha in mente, Kim? Ahah! Beccata! Assolutamente no! È tipo... una setata di sangue! Oh, questo è un ottimo modo per iniziare la serata! È ora di convincere mamma e papà che Kim è davvero una vampira! Dicci, Kim! Ora devo andarmene! Cos'era quel rumore? Oh, Veronica! Oh, sono tornata a casa! Oh, oh! Sei sveglia, eh? Perché eri fuori così tardi, signorina? Saresti dovuta restare a casa come tua sorella, Veronica! Ma anche lei era fuori! Io? Come osi mentire così, Veronica? Ma ho le prove, guardate! È una vampira! Ma, sorella, non c'è niente nella foto! Oh, aspettate! Giuro che ho fatto delle foto! Oh, non posso crederci! Questo è semplicemente inaccettabile! Sei in punizione! È ora di diventare genitori severi! Verrai punita! Cosa? Annullerete il mio compleanno domani? Ma è davvero troppo! Oh, no! Sei finita, sorella! Ok, prendiamo il tuo regalo di compleanno! Lo adorerai! Alzati e risplendi! Cosa vuoi? Buon compleanno, Veronica! È molto dolce da parte tua! Cos'è? Avresti dovuto vederti! Oh, non avresti dovuto! Ehi, guarda! Non è bello il tempo fuori oggi? Tutto tranne quello! Così impari a prendermi in giro! Michael! Sorpresa! Entra! Sono sola adesso! È ora di conquistare questa torre! È così bello che tu sia venuto! Questi sono per te, tesoro! Buon compleanno! Non ci crederai mai, ma mia sorella è una vampira! What? Una vampira? Sei sicura? Ha delle zanne enormi ed è anche... Tu sei innamorato di me? Sono innamorato di te! Michael! Ti senti bene? Questi sono per te, tesoro! Mamma, pensavo di essere io la tua dolce metà! Sì, sì! Ehi, che cos'hai? Hai notizzato il mio ragazzo! Ma cosa ci fa lui qui? Michael era innamorato di me! Innamorato di te? Non a casa mia! Dai, papà, calmati! Non alzare più un dito sulle mie figlie! Capito, amico? Ma volevo solo augurare a Veronica un felice compleanno! Allora torna l'anno prossimo! Non preoccuparti, tesoro! Non ti disturberà più! Oh, cavolo! Mi sono fatto male! Sangue! Kim, stai bene? Fami! Voglio dire, sì, sto benissimo! Guarda qui un attimo! E adesso? E adesso? Oh, Veronica! Deve essere una! Una vampira, sì, lo so! E ho un altro asso nella manica! La luce! Mamma! Tesoro, abbiamo delle brutte notizie! Kim è una vampira! L'ho visto coi miei occhi! Certo che sì! Dopotutto stiamo andando a una festa mascherata per vampiri! Cosa? È stata un'idea di Kim! Non è molto fantasiosa? Tesoro, non hai capito! Oh, voi due siete dei fifoni! Te lo mostrerò! Guarda! Ehi, Kim! Ti andrebbe un po' di sangue? Sangue! È davvero una vampira! Per favore, mamma, devi crederci! Va bene, tesoro, basta scherzare! Muoviamoci! Oh no, sta per mangiare tua madre! Buonasera, signora! Oh, è qui che si svolge la festa dei vampiri! Entra, padrona della notte! Ottimo, grazie! Ehi, dov'è il mio distintivo da vampiro? Sei troppo giovane per essere una vampira! Oh, è così dolce da parte tua! Non sono un essere umano mortale! Sono una vampira sinistra! Smettila di tenere occupata la fila! Non preoccuparti, Veronica! Salveremo la mamma! Dopotutto sconfiggere i cattivi alla vocazione della mia vita! Papà, sei veramente tu! Wow! È un aspetto così... Eroico! Quei vampiri faranno meglio a... Oh, un momento! Farebbero meglio a stare attenti! Ora è il momento della parte più emozionante! Guarda e impara, tesoro! Non c'è niente che i vampiri temano più dell'argento! Non dimenticarti dell'aglio, papà! I vampiri sono mortalmente allergici, ricordi? Questo è davvero incredibile! Ci sei adesso, Kim! Cattiva! Siamo una grande squadra, tesoro! Queste feste dei vampiri sono davvero divertenti! Balliamo fino allo sfinimento! Ok, Veronica, sei pronta? Sì, quei vampiri non avranno alcuna possibilità! Allora, facciamolo! È ora di andare! È una specie di gioco di società? Oh, mi piace questa idea! Kim! Lasciate andare subito mia madre! Dove eravate voi due? Ci stiamo divertendo tanto qui! Assaggiate il mio argento sanguisughe! Cosa? Smettetela di interferire con la nostra cena, mortali! Cosa intendi con cena? Aiuto! Ok, papà, adesso tocca a me! Prendete questo! È aglio! Va bene, mortale, sei finita! Tenete le vostre zalle lontane da noi! Papà, stai bene? E ora tocca a te, tesoro! Non se ci sono io! Oh, sono bloccato! Tiratemi fuori di qui! Oh no! Cosa ho fatto? Sono sempre stati così gentili con me! Le ninne e nanne! I regali! Gli abbracci! Non ho mai avuto una vera famiglia come loro! So cosa fare! Fermi lì! Quelli sono i miei mortali! Non più chiunque! Qualcuno fermi questa terribile luce! Non preoccuparti, tesoro! Siamo qui per te! Seguimi! Dovete giurare che non litighierete mai più! Potete prometterlo! Lo prometto! Pace, Veronica! Sì, ho sempre desiderato una sorella! Un attimo, penso che sia importante! Wow, guardate! Stanno organizzando una festa di supereroi! Oh, è un peccato che non abbia un costume! Hmm, penso di poterti aiutare! Ho tenuto questo vestito per così tanto tempo! Vai e provalo! Sono un'eroina adesso! È ora di andare! Ciao, siamo qui per il film! Prima i biglietti! Bene! Entrate e godetevi il film! Non dimenticatevi di me! Oh, no! Cosa farò adesso? Ho perso il mio biglietto! Niente biglietto, niente film! È tutto per te! No, no, no! Stai lontano da me! Hai visto cosa ha fatto a quell'eroe? Cosa ne è successo? Dov'è la polizia? Oh, che fifone! Ciò significa che spetta alla Detective Ladybug risolvere questo caso! Bene, bene! Vediamo un po'. Ho bisogno di alcuni indizi su cui lavorare! Aha! Ah, ecco qua! Hai qualcosa da dire, eh, Ardy? Il mistero è risolto! So esattamente come hai fatto! Odio le battute! Eccoti, Pumni! Ops! Dovrei sbarazzarmi delle prove! Non è andata così! Ops! Non è questo! Eh, ecco! Devi mettere giù le armi prima di passare! Ma, ma io sono... Oh, certo, come vuoi! È facile! Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto, signore! Beh, spero che il film ti piaccia! Vedi, non ho fatto niente! Sì! Questo caso sta diventando sempre più strano! Ecco, guarda, ho abbastanza roba per equipaggiare un esercito! Ok, Ardy, sei libera di andare! Volevo solo aiutarti! Applausi per il solo ed inimitabile! Ma temo che lo spettacolo di oggi sia cancellato! Beh, pensiamo di averla trovata! Pommi, sei tu! Devo salvarti! Farò di tutto per il tuo bene! Oh, che schifo! Aspetta, cosa diavolo è? Penso che abbiamo risolto questo mistero! Tu sei l'assassino! Ed ecco com'è andata! Oggi ho preparato per te un'altra avventura terribilmente pericolosa! Mi dispiace, ma non oggi! Non puoi semplicemente rifiutare la chiamata all'avventura! Ma voglio vedere il film! Ho detto di no! Oh, fermali! Per favore, permettimi di spiegare cos'è realmente successo! Sono quasi al mio obiettivo! Non ti dispiace, vero, signor Kane? Mi dispiace molto, ma devo vedere quel film! Ha funzionato! Ho questa magia del Digital Circus! È fantastica! E ho le prove a sostegno delle mie parole! Beh, non posso discutere! Sprigati e trova il vero assassino! Farò del mio meglio! Cosa abbiamo qui? Sono Popcorn e... Bad Boy! Cosa ci fai qui? Oh, mi sono perso qualcosa! Oh, il mio stomaco! Quindi ci sei tu dietro a tutto questo! È il momento del tuo interrogatorio! Lady Bug? Cosa stai cercando di fare? Ti farò confessare i tuoi crimini! Ci siamo quasi! Non vedo l'ora! Ciao, Pumni! Essere un cattivo è così divertente! Non ti permetterò di danneggiare la mia città! Non ho paura dei fossili come te, Bad Boy! Oh, come ti permetti! E ora è il momento di trovare un posto dove nascondersi! Cosa dovrei prendere? Oh, sì! C'è solo un piccolo problema! Aspetta! Dammi un momento! Ecco i soldi! Ho solo un dollaro! Mi dispiace per te, Spider Boy! Oh, è la mia occasione! La cena è servita! Buon appetito a me! Deliziosi! Ma ora devo proprio andare! No, nel momento peggiore! Forza, sai esattamente cosa fare! Oh, Pumni, mi hai salvato! Presto, devo arrivare in tempo! Fammi entrare, è un'emergenza! Apri questa porta in nome della giustizia! Ok, devo... Attenzione! Ehi, non vedi che ho occupato? Mi ha fregato! Il supereroe ha bisogno di aiuto! Guarda, ho cercato di andare in bagno per tutto questo tempo! Beh, questa prova è praticamente inconfutabile! Cosa? Ancora? Scusa, ho mangiato troppi popcorn! Chi c'è? Oh, mi sento proprio bene adesso! Oh, no, non è vero! Voi due siete una causa persa! Va bene, continuiamo l'indagine! Beh, è stato emozionante! Oh, cosa le è successo? Ed ecco la nostra principale sospettata! Non puoi scappare dalla giustizia, succhia sangue! Ladybug, cosa fai? Ho solo un piccolo test! E adesso? Ahah, lo so! Mi sto avvicinando, lo sento! Ora tocca a te! Mostraci le zanne! Questo è un caso davvero intricato! Chi ha morso Pommy? Il gatto? O la vampira? Dimmi cosa ne pensi nei commenti! La vampira! Sei in arresto! Ok, va bene, ti dirò cos'è successo davvero! Vorrei un biglietto, per favore! Ecco, hai preso l'ultimo! Grazie! Ciao, sono qui per comprare un biglietto! Mi dispiace, ma sono finiti! Ehi, vuoi un biglietto? Allora, ascolta! Accetterò l'accordo! Ora è il momento della parte più emozionante! Goditi lo spettacolo, Pommy! Fammi vedere il tuo biglietto, signorina! Non sai che i vampiri non hanno bisogno di biglietti? I vampiri non hanno bisogno di biglietti! Vedi, Ladybug? Non ho fatto niente! Adesso dovrei davvero andare! Pensavi davvero che quello avrebbe fermato un vampiro? Un omicidio nel mezzo del nostro cinema! L'assassino sei tu! E posso dimostrarlo! Cici wow, non sono in ritardo, vero? Non puoi tenere a bada un clown così facilmente! Oh cavolo, spero di non essere beccata! Aspetta, sei tu! No, non sono io! Non prendi in giro nessuno! Vattene da qui, sei stata beccata! Niente biglietto, niente film! Adesso io ti... Non provarci nemmeno! Oh, sembra che abbia vinto! Non sono stato io! Devi ascoltare la mia versione della storia! È fantastico! Ma un po' noioso! Ho ragione! Ehi, non pensarci nemmeno! Oh, stai lontano da me! Cosa pensi di fare? Ok, non lo sopporto più! Oh no, non sto dormendo! Oh, chi c'è lì? Oh, ho davvero dormito tutto il tempo? Immagino che questo sia un vicolo cieco! Allora posso andare, per favore? Dove sono? Qualcuno mi aiuti! Evviva! Pommi, devi dirmi tutto! Cosa ti è successo? Ma dove sono tutti? Ehi, volete divertirvi un po'? Ladybug, è lui! Beh, lo giuro, è stato tutto solo un incidente! Questo sarà uno scherzo memorabile! Pommi! No, no! Tutto tranne quello, per favore! È uno scherzo impeccabile! Sono divertente o no? Certo che sì! Era solo uno scherzo, davvero! Ops, stai bene! Congratulazioni per aver risolto questo mistero! Oh, che atterraggio morbido! Ciao, ragazze! Vai a prenderlo, amica! Oh, Ladybug, andiamo a un appuntamento? Cosa c'è di meglio di una serata romantica con l'amore della tua vita? Potresti portarmi altro latte? Torno tra un attimo! Ottimo, prenditi il tuo tempo, tesoro! Ora posso finalmente guardare il mio programma preferito! Oh! Cos'è? Quello! E già che ci sono, prendo anche un hamburger! Ah! Chat noir! Com'è potuto succedere? Tesoro, stai bene? Non c'è polso! Questo significa che... È morto! Oh, che orrore! Devo chiamare il 911? Pronto, questa è un'emergenza! Non posso credere che sia successo! Ok, devo ricompormi! Devi concentrarti, Ladybug! Dobbiamo scoprire cos'è successo! Tutto questo è davvero, davvero strano! Da dove viene quella pistola? Ecco la criminale! Cosa? No, tutto questo è un enorme malinteso! È sangue quello! Ah! È ancora uno scatto! Signora, la prego lasci la scena del crimine! Qualcuno mi ha incastrato, davvero! Oh, oh! Abbiamo un problema qui! Ladybug ha ucciso Chat noir! Non posso credere a quello che vedo! Sì, non sta andando bene! Ok, ora dovrei essere un po' più al sicuro! Wow! Ragazzi, aiutatemi a raggiungere 50.000 mi piace! Così potrò scoprire chi è davvero ucciso Chat noir! Non posso farcela senza di voi! Oh, Kiki! Cosa ci fai qui? Tiki, non ho tempo per questo adesso! Ehi, mi sembra di aver visto qualcosa! Oh, ci sei adesso! Ti ho preso! Hai ucciso tu Chat noir! Ammettilo! Hai sempre invidiato il suo successo! Oh sì, sono il più grande eroe da queste parti! No, non lo sei! Chat noir è il migliore! Oh, davvero? Non è giusto! Odio Chat noir! E poi, quando sono andata via per il latte! Sei entrato in casa nostra per vendicarti! Oh, ciao Spider Boy! Di addio Chat noir! Nooo, per favore, non farlo! Un rivale in meno da affrontare! Oh, oh! È ora di andarsene! È esattamente così che è andata! Io? No, no, no! Ecco com'è andata! Stavo cercando un posto dove vivere! La signora Connelly mi ha offerto questo appartamento! Ma non potevo permettermelo! E poi la signora Connelly ha trovato una soluzione! Ha detto che mi avrebbe affittato l'armadietto della cucina! E sai una cosa? Si è rivelato piuttosto accogliente! Quindi ho accettato l'accordo! E da quel giorno dormo qui! Ed è per questo che mi hai trovato qui! È incredibile! Ma questo significa che devi aver visto qualcosa durante l'omicidio! Oh, lasciami pensare! Sì, ricordo! Ho sentito uno sparo! Ero seduto qui a giocare a The Mongas quando all'improvviso... Ho aperto l'antel e ho visto uno strano ragazzo con un bastone! E non avevo affatto paura! Un ragazzo con un bastone, eh? Somigliava a questo per caso? Sì, era esattamente così! Allora era papillon! Va bene, grazie per l'aiuto, Spider Boy! Come ha fatto quel cattivo a entrare qui? Oh, le prese d'aria! Devo andare a fondo alla questione! A qualunque costo! Ok, Ladybug, è ora di muoversi! Non si può tornare indietro! Aha! Ce l'ho fatta! Cosa? Non può essere! Ciao, papillon! Sei stato tu a uccidere Chat Noir! No, non è vero! Non ci crede nessuno! Hai il gesso! Ecco perché non avrei potuto farlo! Hmm... È una specie di trucco? Oh! Oh! Per favore, Ladybug, risparmiami! Aha! Penso di sapere come ti sei rotto la gamba! Posso avere altro latte? Ok! Certo! Papillon! Pensavi di potermi prendere alla sprovvista, eh? Coglio! Oh, la pagherai per questo! Oh, davvero? Beh, è stato quasi troppo facile! Oh mio Dio! Devo andare in ospedale! Bene, mi occuperò di Ladybug più tardi! È così che è andata! Ecco perché è il gesso! Ti sbagli! È stato un incidente! Stavo mangiando una banana! E ho buttato la buccia per terra! E poi... Credo di essermi rotto la gamba! È tutto a causa di un errore imprudente! È così che sono andate le cose! Ecco, guarda! Di cosa stai parlando? Attenzione, bucce di banana, eh? Beh, ok, ti credo! Scusa il disturbo e arrivederci! Oh, oh! È stato scortese da parte tua! Va bene, va bene! Lo ammetto, questa non è stata un'indagine molto riuscita! Allora è così, eh? Oh, Ladybug! Ecco la stanza dedicata a te! Ti ho beccato succhi a sangue! Tu hai ucciso Chat Noir! E so anche perché! Ehi, abbiamo finito il latte! Ne porterò subito dell'altro! Ah, il momento fatidico è finalmente arrivato! Prendi questo! Ehi, dov'è scappato? Mi cercavi, Chat Noir? Sei un vampiro? Cosa ci fai qui? Beh, mi piacerebbe uscire con Ladybug e tu sei d'intralcio! Oh, sono troppo giovane per morire! Ladybug è mia adesso! Addio, Chat Noir! Devi esserci tu dietro a tutto questo! Io? No! Questa stanza è per mia figlia! Ladybug, sono la tua più grande fan! Papà, guarda, Ladybug mi ha fatto un autografo! È fantastico, ma ora scusate, devo andare! Ciao, Ladybug! Vieni di nuovo! Quando vuoi! Sì, è stato imbarazzante! Oh, Chat Noir! Amore mio! Non ho ancora scoperto chi ti ha ucciso! Oh? Che cos'è? Un ciondolo a forma di cuore? Vediamo! Hardy Win! Come ha potuto farci questo? Puoi portarmi dell'altro latte? Solo un momento, gattino! Finalmente è fuori dai piedi! Oh, Chat Noir! Ti amo così tanto! Ecco, questo ciondolo sarà il simbolo del mio amore eterno per te! Oh, Hardy è così dolce da parte tua! Oh, non posso crederci, traditori! Ci amiamo, Prenster! Accettalo! Oh sì? Vediamo se ti piace questo! Oh, che male! Bene, ora siamo pari! No! Budino, aspetta! Sì, Prenster è notoriamente geloso! Ciao! Sì, so cosa hai fatto, Prenster! Cosa? Non ho tempo per i tuoi stupidi giochi! Hardy e io stavamo andando a derubare la signora Connelly mentre era impegnata a lavorare a maglia! Ottimo lavoro, Budino! Ora andiamo via di qui! Non scapperete, ladri! Toglimi le mani di dosso! Cici, wow! Che bel trofeo! È così che hai rubato il mio ciondolo! Ok! Ciao! Sei in arresto! Mani in alto! Aspetta un momento, giuro che sono innocente! Sbrigati a rinchiuderla, gente! Trattala come l'assassina che è! Aspetta un attimo! Questo è il campanellino di Chat Noir! E allora? È stata la signora Connelly a uccidere Chat Noir! Ha sempre avuto rancore nei nostri confronti! Quando sono andata in cucina, Chat Noir ha alzato il volume! Cici, wow! Fantastico! Non posso perdermi una parola! Oh, non riesco a fermare i piedi! Questo suono è fantastico! Ora basta! Sono io o fa caldo qui? Prendi questo disgraziato! Adesso va molto meglio! Oh, che bel campanellino! Penso che lo prenderò! Ecco com'è andata! Signora Connelly, sei tu la colpevole! Va bene, signora, sei in grossi guai! Aspetta, posso spiegarti! Ero impegnata a lavorare a maglia dei calzini nuovi per i miei nipoti! Quando all'improvviso! Ho notato quell'insopportabile gatto! Oh, oh! Cosa ci fai nel mio appartamento? E c'è una svendita laggiù! Oh, piccolo mascalzone! È così che è andata! Ok, Ladybug, sei in arresto! Ok! Tiki, cosa stai facendo? Oh, di cosa si tratta? Oh, che cos'è? È il suo occhio! È una videocamera! Ecco le tue chiavi! Ed ecco un piccolo regalo di inaugurazione della casa da parte mia! Oh, grazie, signora Connelly! Quindi questo orsacchiotto ha una videocamera dentro! Oh, sì! What? Questo è il mio umile piccolo sistema di sicurezza! Assolutamente no! Questo è tipo il quartier generale degli hacker! Sì, è il mio orgoglio e la mia gioia! Queste telecamere sono puntate su tutti i miei inquilini! Li tengo tutte sotto totale sorveglianza in ogni momento! Ok! Un attimo! Che cos'è? Ciao, mio piccolo amico peloso! È ora di divertirci un po'! Ora, come allontanare i poliziotti dalle nostre tracce? Questa imitazione cinese dovrebbe fare al caso nostro! Oh, ci vorrebbe anche un pizzico di marmellata di fragole! Sangue, una pistola fumante! Concludiamo la cosa con il botto! Oh, Chat Noir! Va bene, è fatta! È ora di uscire di qui! Oh, sbrighiamoci! Beh, cioè... È semplicemente incredibile! Devo vedere se è vero! È una copia! Beh, cosa dovrei fare adesso? Ladybug, salvaci! Non possiamo uscire di qui! È Chat Noir! E quella è la ragazza scomparsa del cartone del latte! Oh no! È lui! Ciao, Ladybug! Ciao e benvenuta! Ehi, benvenuta! Potete dirmi dove conduce questa porta? In digital circus, eh? Ok! Facciamolo! Ciao! 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 Grazie a tutti.